... ... ... ... ... ... ... Ma la piove è tutto positivo, com'è? Calma allora, ma ci dai un po' affettato. No, 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 non devi fare, vamo, non devi fare, vieni la strada lì, c'è l'uscita. E piove, piove, va bene. Sì, dai, è meglio. La miseria è senza differenza, c'è, c'è differenza, no? È stressante, eh? Allora, provo il sterf. Oh, eh, lo sono andato, vamo. Non vuoi, vai. Sì, tutto. Lascialo perdere quel telefono. S'è ammocciato, Doni, vero o s'è ammocciato, Tito? Un po' s'è ammocciato, come va? I pensieri, Doni, i pensieri. Ma che pensieri c'hai, Mo? Garita. Sì, è un po' negativo, eh. Una bella visita, dai, che mi cascola che ti parla, no? No, senza dire, sta con lei, vedi? Do sei, collega? Esci per Roseto, te lo, ci caschi dentro, dai, come scendi giù, vincoli per Roseto e ti trovi a Notaresco. Giusto, Tonino? KK. Ti correggi se sbaglio, eh? No, no, no. Ma sai, io sono poco un branato, non entro, poi fidatemi. Come ti ho detto, vengono sempre i dubbi. Vincendo. Voi, signori. Hai vista la macchina che ti serve che si è appoggiata dietro di me? Eh? La macchina che si è appoggiata dietro di me? Quando? Ieri sera, sull'altro, piano piano, lì, ha il pullman che si è riformato di posto, con l'avanzapicola, si prego, dietro si è appoggiato. No, non mi soccorso quello dietro. Apparocce, che fa piove sopra? E stia, buonasera. Buonasera, domani. Saba, direzione tua tutta bella, dai, quando prendi la canna non piove più. Saba. Niente, adesso c'ho gli ammortizzatori nuovi, c'ho il vetro aperto perché io tengo sempre il vetro aperto. Ma sai che ti sballotta là dentro? Negativo, guarda, se ce la faccio appassare, ti faccio vedere, guarda, eh. Senta che ci sta sta cazzo di macchina qua. Guarda, vai tranquillo. Ma c'è là, sto coglione. Pazzo io sopra. Ora vedrai che tanto esce a terra, ora, entra, entra. Quanto è stronzo, fai messo a correre. Guarda, eh. Non si muove neanche la cabina, guarda, rispetto alla tua non si muove per niente, guarda. Guarda quando ti passa avanti. Benissimo. Eh, poi l'ammortizzatore ci abbiamo messo quelli rinforzati. Qua dentro, se non mi mantenga lo sterzo, ve l'ha finito pal tetto. L'unica cosa che mi manca rispetto a quello è che appoggiare il braccio di fianco, dai. Qua lo sterzo, qua non lo puoi mica appoggiare, lo appoggi. Ma quando lo portavo all'aerotec, c'era quel tipo un maniglietto, era comodo, eh. Questo no, questo non è uguale. Questo sta lontano qua, sullo sportello. NK, e vabbè. Che vuoi fare? No, no, comunque dai, a parte di scherzi, vedi. Poi è un cocarda, questo rimorchietto è un cocarda. Ah, va bene. Quello bisognerebbe verdiciarlo rosso, dai. Buono, ho detto, per me va bene così, dopo vediamo. Capisce a me. Ma in alto più. A me ne spiace perché non riesco a capire. E' un po' gli appoggiatori, i postentori, un po'. Oh, i suoi appallamenti, questo è tutto, grazie. Tonino, salto. 35. Andrea, di tu. Qui. Oh, mio Dio. 35. Mustafà, fai lo bravo tu, eh. Eccolo, eccolo. Lo incontro qua a Marco. Mi pare Marco questo, quella buona sera. E' come, no? Questo è Marco. No, no, diciamo, l'autista della mia vecchia sparra. Ciao Marco, dai, piove fino sopra il buco, di là non pioveva il mio passaggio. L'autista della mia vecchia sparra. Visto, i nubi diventano sole. Esce, la cura ha sposato, la puoi tardare in lei. Dopo la ragazza tua, prima scontare il passaggio. Andrea, sempre amore mio, sempre, mi chiama pure, non mi ricordo, è un altro nome, pure, non mi ricordo. Passerottore, ragazzi, è un passaggio. Passerottore, ragazzi. Passerottore, ragazzi, non è manodata. Se lo sai che devi accendere fuori, no? Grazie a tutti. 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 Noi ti calcoliamo, per l'amore di Dio, noi ti calcoliamo come amico, come persona di fiducia, ecco, come imprenditore magari sì, ma l'altra parte la può, niente, mi tu parla a venti perché...